Dalla posizione 103 a 3879 è presente una sequenza genetica ottimizzata che ha la funzione di aumentare l'efficienza traduzionale del messaggio e la sintesi della glicoproteina spike. Ma che cos'è la glicoproteina spike? Le spike sono delle glicoproteine di superficie che hanno la funzione di mediare l'attacco del virus al recettore enzimatico ACE2, ovvero l'enzima di conversione dell'angiotenzina sintetizzato dal tessuto endoteliale dei vasi sanguigni e in particolare dei vasi sanguigni dei polmoni, ma anche di tutti gli organi del corpo. Quando la subunità S1 poi si lega al recettore, questa effettua un movimento a cerniera che espone o nasconde gli altri RBD e fa assumere così alla subunità S2 una conformazione di postfusione che risulta essere ancora meno stabile. Questo secondo stato viene definito up in quanto la membrana virale può fondere con la cellula. La sequenza che codifica per la spike presenta alcune differenze con quella del virus originale. Innanzitutto molte triplette sono sostituite da cosiddette triplette sinonime, in cui il terzo neoclutile del codone viene cambiato in citosina e guanina. Questo ha lo scopo di aumentare la composizione percentuale di citosina e guanina all'interno della sequenza codificante, per aumentare la stabilità della sequenza e per migliorare l'efficienza di traduzione. L'mRNA del vaccino, inoltre, contiene altre due mutazioni puntiformi all'interno della sequenza polipeptidica e esse sono la mutazione K986P, in cui l'aminoacido lisina, codificato all'interno dell'mRNA virale della tripletta AAA, viene sostituita all'interno del vaccino con una prolina. Il cucolone è CUU. Nella mutazione V987P, invece, è l'aminoacido valina, codificato all'interno dell'mRNA virale della tripletta GUU, a essere sostituito con una prolina all'interno del vaccino. La sostituzione di questi due amminoacidi con la prolina determina una variazione della conformazione della glicoproteina a livello dell'elica centrale e così stabilizzandola nella conformazione di prefusione. Dunque, queste mutazioni rendono la proteina spike esposta a livello del plasma lemma delle cellule ospite identica rispetto a quella presente sull'envelopo del virus. Questa modifica permette una maggiore risposta del sistema immunitario e la conseguente produzione maggiore di anticorpi, rendendo così il vaccino più efficace. Alla fine dell'mRNA codificante per la proteina spike, oltre a trovare le sostituzioni sinonime, si osserva anche una modifica del cordone di stop. Indicato qui nell'immagine con la lettera S. Infatti il virus originale usa il codone UAA, mentre nell'mRNA del vaccino troviamo due codoni UGA in successione. E questo per dare un segnale più intenso di fine della traduzione.